Ben trovati nell'angolo dello sport domani alle 20.45 Roma Pescara partita delicata per tutte e due le formazioni la Roma che è impegnata per conquistarsi un posto in altissima classifica per poter disputare la Champions e il Pescara che deve in definitiva guadagnare punti per la solvezza. Ci sono delle novità, rientrano Caprari e Baebec, si sono allenati a parte Aquilani, Coda, Fornasier, Mitrita non credo che ce la faccia e Campagnaro sicuramente fermo per un paio di partite e nella Roma invece Manolas non ha recuperato così come non ha recuperato nemmeno Fiorenzi. I bookmakers danno naturalmente come favoritissimo il complesso della Roma, tant'è che per il 2 del Pescara viene dato a 15, quindi insomma vuol dire che ci danno sconfitti secchi, però tutto può succedere. Come giocherà il Pescara? Dovrebbe giocare con il 4-3-2-1 anche se Oddo probabilmente deve ancora sciogliere qualche dubbio perché qualcuno dice che potrebbe utilizzare Manai, io non ci credo, se sta bene Baebec giocherà Baebec come punta avanzata, qualcuno dice che potrebbe giocare anche Aquilani, ma non ci credo. È possibile invece che Pepe ed Aquilani siano in panchina, questo sì, comunque sia. Io vi do una formazione, salvo poi quello che succederà domani. Bizzarri in porta va bene. Si ritorna con la difesa a 4, quindi Zampano, Zubaric, Biraghi, Crescenzi, in avanti Cristante, Brugman, Memushai, poi Caprari, Benalì e Baebec. Questa è la mia formazione. La Roma invece giocherà con il 4-2-3-1 e ci sarà Scesni in porta, poi Perez, Rudiger, Fazio, Gesus, o Gesus che dir si voglia, De Rossi, Paredes, Salana, Ingolan, Perrotti e davanti Geco. È una formazione che ti fa venire i brividi, voglio dire, se dovessimo giudicare uno per uno i vari elementi dei vari ruoli è chiaro che il Pescara ne uscirebbe con le ossa rotte. Però il calcio è uno di quegli sport in cui può vincere anche la squadra meno forte. In altre discipline, per esempio il rugby, che è una disciplina che io amo moltissimo e seguo molto, la squadra più forte sulla carta al 99,99% vince. Nel calcio invece può succedere di tutto. Può succedere che ti mettano sotto assedio, ti tempestano di palloni e di pallonate, ti prendono come si dice volgarmente a pallonate, però non riescono a segnare e poi ti capita che in una sola azione di contropiede o segni o ti guadagni un rigore e vinci lo stesso. Insomma, voglio dire, può succedere di tutto. Di certo sappiamo che non va il pubblico organizzato, organizzato, cioè il tifoso organizzato. I Rangers hanno contestato la scelta romanista di mettere il biglietto a 35 euro, un'esagerazione, insomma, dati i pezzi e i costi che ci sono in tutti gli Stati italiani. Però so che moltissimi tifosi ci vanno e si parla di 7-800 persone, ma forse anche più, perché fino all'ultimo momento la trasferta è comoda, voglio dire, Roma sta qui a un tiro di schioppo, quindi ognuno potrebbe poi abbinare, una giornata tutta romana e la sera poi allo stadio per la partita, perché vi ricordo che è alle 20.45. L'arbitro Irrati, ve l'ho già ricordato in altra edizione, vi ho ricordato pure che l'ultima sua direzione arbitrale per il Pescara è stato un Genova-Pescara, è finito 1-1, ma anche lì fu una partita piena di contraddizioni, anche di piccole sfumature, di piccole scuciture che non è che hanno esaltato la prova di Irrati. Possiamo chiudere qui, un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre da Gianni Lussoso, un buon fine settimana, un ringraziamento particolare all'amico e collega, il regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie.